La teoria che vuole gli sbarchi sulla Luna un gigantesco complotto organizzato dagli Stati Uniti fu avanzata per primo da Bill Kaysing, uno scrittore che lavorò per l'azienda Rocketdine, che fornì molti dei componenti dei motori a razzo per la NASA, fino al 1963. Kaysing affermò nel 1976 una teoria oggi accettate dal 6% degli americani, ovvero che lo sbarco fu semplicemente filmato e che fu Stanley Kubrick a girare il video grazie alla sua esperienza con 2001 Odissea nello spazio. Da allora furono avanzate altre teorie del complotto lunare, come ad esempio il fatto che gli allunaggi avvennero realmente ma che furono ben diversi da quanto mostrato, a causa delle incredibili scoperte che avrebbero fatto gli astronauti ma anche per non mostrare ai sovietici la natura e la tecnologia dei mezzi statunitensi. Sicuramente oggi, a fronte delle numerose prove apportate in diverse sedi, come le fotografie degli oggetti lasciati sulla Luna da parte degli astronauti, è difficile credere che sia stata una messa in scena, tanto più che, come affermò Umberto Eco, convincere 400.000 persone al silenzio sarebbe stato più difficile che mandare realmente gli astronauti sulla Luna. I teorici della cospirazione hanno notato che, durante la diretta televisiva, gli spettatori potevano chiaramente vedere la bandiera americana che aveva una forma come mossa da una corrente d'aria. Questo è chiaramente impossibile perché nello spazio non c'è aria. La NASA afferma che la forma ripiegata è dovuta all'involucro in cui era contenuta la bandiera, che le ha dato questa forma prima di essere piantata. Un'altra spiegazione è la forza che gli astronauti avrebbero impresso alla bandiera quando posizionata le avrebbe fatto assumere una forma irregolare. I teorici della cospirazione affermano che, se davvero il modulo lunare fosse sbarcato sulla Luna, ci sarebbe un cratere da impatto sotto al modulo lunare che testimoni il suo atterraggio. Su qualsiasi filmato o fotografia degli sbarchi il cratere non è visibile. Quasi come se il modulo fosse semplicemente posizionato lì sopra, senza aver prodotto alcuna forza. La superficie della Luna è coperta di fine polvere lunare, come evidenziato dalle orme degli astronauti, ma il modulo lunare non lasciò alcuna impronta. La NASA afferma che il modulo richiese una spinta significativamente minore per atterrare rispetto a quella necessaria per atterrare sulla Terra, e che quindi il cratere da impatto non avrebbe potuto formarsi. Inoltre, la superficie della Luna è di solida roccia, quindi non ci sarebbe potuto essere un cratere da impatto, come quando un aeroplano atterra sulla pista di un aeroporto. Sulla Luna esiste una sola e fortissima sorgente di luce, il Sole. È corretto quindi ipotizzare che tutte le ombre si muovano contemporaneamente in base al ruotare dei due pianeti. Questo però non è il caso delle ombre fotografate sulla Luna, che si proiettano con prospettiva diversa. I teorici della cospirazione suggeriscono che le sorgenti di luce dovevano essere obbligatoriamente più d'una, che non potevano essere spiegate se non con la ricostruzione in studio dell'ambiente lunare. La NASA ha spiegato la cosa affermando che, tali differenze, sono dovute al paesaggio irregolare, a dossi e colline sulla superficie lunare che creano queste discrepanze. Le fasce di Van Allen sono costituite da particelle cariche all'interno della magnetosfera terrestre, e si dispongono su più livelli sopra la superficie del nostro pianeta. Secondo i teorici della cospirazione, gli astronauti che passarono in queste fasce, attraversandole interamente, avrebbero dovuto essere «cucinati» dalle radiazioni. Non è inoltre infrequente che gli stessi satelliti odierni vengano danneggiati da queste particelle cariche. A causa del breve tempo trascorso dagli astronauti ad attraversare la cintura, la NASA sostiene che questa affermazione è infondata. Tuttavia, non hanno fornito una spiegazione del motivo per cui l'apparecchiatura elettronica è stata risparmiata dalla distruzione. come è avvenuto in molti altri casi noti. Uno strano riflesso sulla visiera del casco di un astronauta è stato catturato dalla telecamera durante la missione Apollo 12. I teorici della cospirazione ipotizzano che l'oggetto sia un riflettore che si trova tipicamente negli studi cinematografici perché sembra essere appeso a una corda o un filo e non ha motivo apparente di essere lì. Anche se la somiglianza con un faretto è certamente discutibile, non è ancora chiaro quale oggetto sia riflesso e quale, in realtà, non abbia alcuna giustificazione per restare sospeso a mezz'aria sulla superficie lunare. Nessuna giustificazione specifica è stata offerta dalla NASA. I teorici della cospirazione hanno dovuto trovare una soluzione all'apparente bassa gravità con cui gli astronauti si muovono sulla Luna per sostenere le affermazioni secondo cui gli allunaggi sarebbero stati messi in scena. Ciò implica che se guardi velocemente il video, sembra che ci siano persone che camminano per terra mentre usano cavi e aste per simulare la bassa gravità. Tuttavia, nei video non sono visibili cavi o tiranti, e questo è senza dubbio uno degli argomenti più convincenti dei sostenitori della NASA contro la teoria. L'assenza di stelle nelle immagini prese dalla Luna è un argomento dei teorici della cospirazione ampiamente accettato. La NASA non sarebbe stata in grado di ricreare la volta celeste, quindi si è deciso di lasciare l'area completamente al buio. La NASA ha affermato che le immagini erano di scarsa qualità e prive di stelle perché il film non era stato sviluppato con precisione. Inoltre, a causa dell'illuminazione, non siamo riusciti a vedere le stelle, mentre poiché la Terra è molto più vicina, possiamo vedere le stelle. Poiché alcune foto sono state scattate in bassa qualità e altre in alta qualità, sempre senza avvistare alcuna stella, questo aspetto è forse il più controverso tra teorie del complotto e, credenti. Una delle immagini più famose degli allunaggi, The Rock with the C, mostra un primo piano di una roccia con quella che sembra essere la lettera C, incisa su di essa. È improbabile che la lettera sia una formazione naturale perché sembra essere quasi perfettamente simmetrica. La NASA ha fornito spiegazioni contrastanti per la lettera, da un lato incolpando lo sviluppatore di un fotografo per aver aggiunto la lettera come uno scherzo, e dall'altro insistendo sul fatto che era solo un capello che ha alterato la pellicola. Lo scopo delle croci all'interno del mirino è di guidare il fotografo a scattare foto migliori in termini di standard come simmetria e prospettiva. Le croci si possono vedere anche su alcune immagini, a indicare che le foto potrebbero essere state sottoposte a modifiche post-produzione. Nonostante la NASA sostenga che le immagini siano state scattate a una distanza di diverse miglia, due immagini della missione Apollo 15 dimostrano chiaramente che lo sfondo era lo stesso in entrambi i casi. Inoltre il modulo lunare LM è assente da una delle due immagini, mentre è visibile nell'altro. Secondo la NASA, le minuscole dimensioni della Luna possono far apparire gli orizzonti più vicini di quanto non siano in realtà all'occhio umano perché è abituato a vedere gli oggetti in relazione alle dimensioni della Terra. Nonostante la giustificazione dello shuttle, che può essere accettata o meno, è probabile che sia falso affermare che le due colline visibili nella foto siano a chilometri di distanza, ma questa falsità non supporta necessariamente una teoria del complotto. Se ti è piaciuto questo video clicca mi piace, lascia un commento e iscriviti al canale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.